Qua finalmente, buongiorno, buongiorno e ben ritrovati qui sul canale di PG Esports, siamo noi i più belli dell'Analyce Desk italiano mai presentato, è di noi, affiancato dal bellissimo Nudoz, bellissimo Coach Cristo per questo inizio di mondiale, la finale dei mondiali di League of Legends 2020, ben arrivati ragazzi. Grazie mille, grazie a te. C'è di che, ma partiamo subito con quello che è stato un cammino davvero incredibile da parte di queste squadre, Suning e Damund Gaming per l'appunto. Sì, Suning ha avuto una fase a gironi molto buona in cui pur arrivando ai mondiali un po' da underdog, un po' da quella squadra che arriva dal campionato principale, però non è top 1, top 2, dai gironi già si sono fatti vedere come una delle squadre più in forma del torneo, una delle squadre che si è adattata meglio a quello che era il metà dei mondiali. E poi li abbiamo visti anche partecipare in questa parte del bracket fratricida in cui hanno dovuto uccidere prima i JDG e poi i Tess facendo fuori tutte le altre rappresentanti del PL per arrivare loro stessi a rappresentarli in questa finale contro i Damund al pieno della loro forma. E se invece vediamo i Damund con il loro cammino che parte da questi dubbi su quanto fossero pronti a trasmettere questi Scream Gods poi effettivamente on stage, abbiamo visto come non hanno dubitato un attimo prima di mettersi così in modo imponente prima a avversari come appunto nel gruppo stesso questa dominazione contro gli stessi JDG tra l'altro per poi arrivare non solo a mandare via un altro dei team più favoriti in Best of 5 come quello dei G2, ma abbiamo visto anche loro rendere questa carneficina nella Civil War contro il CK contro gli stessi DRX ancora prima nei quarti. Sono proprio curioso di vedere come queste due squadre, entrambi nominati Scream Gods, vedere proprio quanto sono in grado con un effettivo stage oggi a rendere appunto, renderci partecipi della loro dominazione. Vedremo, vedremo tanto questo mondiale ci ha abituato che insomma nulla è scontato, ma prima di sguinzagliarvi a Modi Analyst come voi benissimo sapete fare, voglio prendermi un piccolo pizzico di tempo per immergermi nel magico mondo di Wild Rift. Grazie a tutti. 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 visualizzato questa cosa e l'ha fatto notare come i Nuguri abbia delle statistiche altissime nonostante appunto questo ruolo da teamfight top laner, tantissime solo kill e in generale delle performance stellari da entrambe le parti e se c'è un top laner secondo me che può riuscire a dare un freno a contenere Bin che si è arrivato più volte sia al punto, uno dei punti più forti sia potenzialmente uno dei punti più deboli dei sunning, se c'è qualcuno che può tenerlo a bada, che può mettergli una muserola e può dirgli oggi nato giornata quello potrebbe essere effettivamente Nuguri. E se poi vogliamo anche parlare della laning phase così aggressiva di Bin stesso e di quanto Nuguri più volte si sia un po' fatto conoscere per il suo 0-2 power spike e comunque per la tendenza a andare indietro anche in termini di magari non rispettare quel trade o quella possibilità di kill e dare quella prima kill, nonostante sia il primo in vantaggio in termini di solo kill. Penso che oggi Bin sia lì proprio per recuperare un po' su questi numeri e farsi valere soprattutto in quella laning phase, anche perché poi in teamfight abbiamo visto come Nuguri sia fondamentale e anche uno dei migliori qui. E sì, e voglio anche continuare su questa cosa dicendo che abbiamo visto nella settimana scorsa, era stato uno dei team più adattati anche da noi, il fatto che il lato rosso della mappa fosse effettivamente il lato importante perché ti dava quel counter pick in top lane che i top esports hanno patito tanto e che a tratti anche i suining stessi hanno patito. Quindi riguardo alla top lane sarà interessante vedere se Bin contro Nuguri sarà così tanto decisa dal side o se fate giocare su un matchup dove Nuguri non per forza cercherà di avere quel counter match up top, non per forza dovrà essere lui in quella posizione di dover prendere la mano forte. Potremmo vedere effettivamente una situazione più rilassata da questo punto di vista, sarò curioso di vederlo. E anche perché poi nonostante stiamo parlando comunque di campioni come Ornn, rinomato come Tank, Assassin, Mage, Bruiser e tutto il resto che si possa dire, ci chiediamo anche quanto questi teamfighter verranno poi magari bersagliati dai suining stessi proprio per dare magari un campione, abbiamo visto quello che Nuguri può dare su un teamfighter, ma quanto può dare al team nemico con quel game di Fiora o magari una laning phase più debole come quella di Camille, che è qualcosa che Bin può sfruttare a suo vantaggio e rendere quella partita un po' più suining favorite appunto. Sì, anche perché c'è da dire che comunque i diversi pick in ogni caso che compongono il loro champion pool, Bin ha avuto delle fantastiche performance su questo Jax, vorrei vedere effettivamente da parte anche di Damwon magari riuscire a contenere la potenza di questo Jax perché è stato più che rilevante in quelle ultime partite soprattutto contro i Tez. Sì, direi che alla fine arrivare ad avere uno split pusher molto forte ma comunque con una forte laning phase come quella che può essere anche quella di GP tra l'altro, può essere magari un modo per Bin di farsi valere nei suoi punti di forza e comunque cercare di colpire quei punti deboli di Nuguri perché comunque penso che i Suning debbano trovare una via alternativa al puro teamfight dove vedo i Damwon veramente veramente favoriti a partire proprio da questi pick di Nuguri tra l'altro. E per collegarmi un po' in chiusura dell'argomento Toplane, magari potremmo vedere anche appunto qualche ban su quei pick più solidi in una corsia superiore per cercare di mettere Nuguri in una posizione non tanto svantaggiosa perché Nuguri non è mai davvero in una posizione svantaggiosa visto quanto è forte, ma è una posizione un po' meno sicura, mettiamola così. Se su Orna, anche se vai 0-2, sa che comunque quell'impatto nella partita ce l'ha, se magari non dico su Fiora ma su qualcosa del genere, se vai su 0-2 power spike potrebbe diventare benissimo 0-6. Vedremo, vedremo durante queste partite, mi auguro più di tre, un po' come tutti quanti. Hai parlato però di equilibri, Cristo, ed effettivamente una gran parte del ruolo lo vanno a ricoprire i jungler e per l'appunto lì il matchup è più che ardente, fiammeggiante. Assolutamente, anche perché appunto Canyon e SFM sono due, come vedete anche un po' per la top, in questo discorso forse sono tra i due roster in cui tutti i giocatori sono dei punti cardine di quello che è il roster poi, ma vediamo appunto Canyon e SFM che hanno delle statistiche molto buone, soprattutto quello che mi spaventa più di tutto è vedere l'experienza, l'experience difference at 15 di Canyon, 767. E se messo in rapporto a quello che è la sua first blood percentage, possiamo vedere anche confermato con SFM come SFM sia forse quello che più volte, uno di quelli che più volte va a prendere quella prima iniziativa sulla mappa, che cerca di setappare quella prima play per poi da lì concedere alla sua squadra di vincere forse da quella play, non direttamente ma di snowballarla. Canyon è l'opposto da questo punto di vista, Canyon preferisce vedere dove è l'avversario per incominciare quella prima giocata, cosa vuole fare l'avversario, da lì prendere il game e portaglielo fuori dalle sue mani. Se lui vede che ti sei sbilanciato un po' troppo a top per prendere una kill, Canyon ti farà sparire completamente la giungla della parte inferiore della mappa. Quindi sono un po' curioso di vedere come uno, come Canyon, riuscirà magari a cercare di sfruttare quella pressione in più data da SFM. E soprattutto con queste stat riusciamo anche a collegare quale poi potrebbe essere l'early game plan dei sunning stessi, in quanto SFM vuole essere più involved in queste azioni magari sulla parte superiore della mappa, Bin invece vuole avere questi trade più aggressivi e magari sfruttare il fatto che Nuguri si faccia un po' baitare da questa situazione per poi cadere da una first blood. Ma dall'altra parte la vera preoccupazione dei sunning propri deve essere quel Canyon lì dietro pronto a essere ancora una volta in vantaggio in XP per i primi 15 minuti, avere il miglior KDA tra tutti i jungler e soprattutto vedere anche chi dei due jungler prenderà poi il controllo di questo campione così importante come quello di Graves. Credo anche che sia un po' il sunto del playstyle di questi due jungler, in quanto non si preoccupano in primis di andare incontro alla jungle nemica, affacciarsi per cercare questi skirmish, prendere questi vantaggi di un campo solo e vediamo come se da una parte c'è Canyon con più game e comunque un KDA molto più alto, vediamo come SFM è comunque lì dietro pronto magari a rubare questo pick e magari farci vedere qualcos'altro da Canyon che oltre a Graves e Nidalee e quel game di Hecarim non ci ha mostrato poi così tanto. Ma in generale una cosa che voglio dire su questo pick di Graves e di come entrambi lo giocano è che è veramente difficile appunto andare a paragonare qualcuno con Canyon in questo mondiale perché ha avuto tutte le performance praticamente stellari. Faccio fatica a guardare una performance in cui dici Canyon non è stato effettivamente una delle star di questa squadra in questa partita e nonostante SFM quindi non abbia magari un Graves pulito in generale stilisticamente come quello di Canyon, trovo che comunque l'impatto che anche SFM riesce ad avere sulla mappa con il suo Graves sia assolutamente da menzionare e non perché il Graves di Canyon è perfetto vuol dire che quello di SFM pur un po' più sporco, pur un po' più diciamo rustico da un certo punto di vista è comunque molto effettivo e riesce comunque a portare il suo impatto sul resto della squadra. Sì ma infatti a rendere il tutto molto più frizzante è proprio il fatto che ambi due questi player abbiano giocato in maniera più che consistente il ruolo proprio di Graves. Anche lì la differenza per EXP al quindicesimo è assurdo pensare per l'appunto che entrambi hanno per lo più giocato lo stesso campione quindi è anche l'approccio di questi due campioni come giustamente avete detto voi di come i due player giocano la mappa, vivono la giungla, arrivati a questi livelli sono veramente dei jungler e vuole la vita reale. E volevo fare una piccola aggiunta perché se vediamo anche qual è l'identità del pick di Graves, Graves è un pick che per andare così avanti tutte le partite vuol dire che è ben supportato dalla squadra perché se Graves non ha quelle priorità nelle corsie, quella libertà di muoversi effettivamente sulla mappa, non dico che vada per forza behind o che diventi inutile ma avere un EXP difference di quasi 800 in media vuol dire che effettivamente te giochi molto bene quel campione visto che ha l'80% dei game sono su Graves per Canyon, te giochi molto bene e la squadra supporta molto bene. Potrei anche aspettarmi un cambiamento proprio da parte di SFM nel voler supportare più la sua squadra lasciando perdere un po' questo match up contro il Graves. Abbiamo visto più volte scegliere quel Jarvan o magari anche il suo Lee Sin con un'itemizzazione un po' più supportiva con questi Knights Vogue, questi oggetti un po' più difensivi che potrebbe essere ciò che in realtà differenzia lo stile dei Suning rispetto a ciò che è quello più jungle centrico che abbiamo visto proprio dai Damwon. Già e parlando tra l'altro anche di priorità nelle varie corsie, la maggior parte di esse partono proprio dalla corsia centrale dove anche lì guarda un po', arrivati alla finale abbiamo detto, non c'è un vero proprio match up che può essere messo da parte, ognuno di essi è cardine del proprio team. E per l'appunto la corsia centrale è una di esse anche solo per dare per l'appunto questa priorità ai vari jungler, muoverli verso gli obiettivi. E la cosa interessante è che se ci avessero chiesto di parlare di questo match up la settimana scorsa probabilmente tutti avranno detto, abbiamo uno dei millenari più forti mondiali e poi un mid runner supportivo molto forte. Agli occhi di quello che abbiamo visto la settimana scorsa diventa molto difficile parlare di Angel in questi termini perché Angel ha avuto delle performance stellari con dei top eSports. In generale, se andiamo a vedere le loro statistiche, entrambi non sono quelli con la damage percentage e la kill participation più alti, sì Angel comunque è terzo, ma non è Caps diciamo con quel 77% magari, sono comunque, non hanno delle statistiche fantastiche per quanto riguarda il Dan e cose così, ma a livello di KDA, se andiamo a vedere Showmaker fa vedere quanto poco questo giocatore muoia. È veramente difficile beccare Showmaker fuori posizione e prendere vantaggio da quella cosa lì, che è molto importante tanto quanto far del danno, non morire e non lasciare spazio agli avversari. Anche gol per minute, grandissimo gap tra Showmaker e Angel. Vediamo Showmaker primo con 482 gol per minute e in media 388 per Angel. Questo vuol dire una differenza di 500 in 10 minuti potenzialmente, quindi se Showmaker farà prevedere questa cosa potremmo vedere gli equilibri della serie spostarsi molto velocemente. Voglio mettere ancora più enfasi su quel gol per minute perché collegandolo a quello che abbiamo visto dalla top fino ad arrivare alla jungle, ci fa un po' immaginare l'allocazione delle risorse stesse che entrambi i team vogliono andare un po' a attribuire, in quanto i Damwon hanno comunque bisogno di più risorse per rientrare in quel che è il loro playstyle, sono ricordiamo il team LCK più LPL che personalmente abbia mai visto, in quanto la loro obbligazione nel vincere le lane è quello che poi rende i propri campioni online all'interno dell'early to mid game. Mentre invece i Suning hanno quella jungle mid che è più a servizio del loro top laner in particolare, quindi se c'è un'allocazione delle risorse che posso aspettarmi è questo jungle mid che possa funzionare con meno gold, magari andare indietro di DCS, essere più disposti a aiutare un trade aggressivo per Bin e quindi mettersi un po' più in ombra alla top lane piuttosto che magari cercare il 2v2 immediato e eventualmente poi perdere quello skill check. Allacciandomi a quello che ha detto giustamente anche Noodles riguardante proprio il ruolo che ricopriva Angel prima di farci ricredere con delle performance strepitose, mi viene anche da pensare quanto il pick che essi condividono maggiormente, ovvero Sindra, possa essere veramente contestato perché a questo punto Angel non diventa più quel, sì è supportivo potrebbe non rivalleggiare con Showmaker ma diventa un, può anche essere supportivo. Sì, Sindra è sicuramente uno dei pick che è riuscito in questo meta perché dopo gli innumerevoli nerfs pensavano fosse un po' morto come mid laner, invece è tornato soprattutto dai gironi in poi e vediamo appunto Showmaker che è storicamente uno dei peccati dei testatori di Sindra con il suo win rate al 100%, appunto anche un KDA che è 10 e che sarebbe stato infinito se non fosse morto una volta la settimana scorsa diciamo, quindi grandissima performance da parte sua con Sindra, Angel, un po' questo discorso che vale anche per Graves, un po' più rustico ma il suo danno lo mette sempre giù, è comunque quella presenza in teamfight, anche in lane, che con Sindra si va sempre a valere. E voglio anche immaginarmi uno scenario dove questi pick condivisi vengono in un certo senso scambiati tra i due team, perché comunque la combinazione solo di Sindra e Graves potrebbe istantaneamente dare tutto l'early game favorevole ai Damwon, mentre invece una squadra come i Suning, nonostante questo power duo è così importante per quello early game, me l'immagino più voler magari rubare questi due campioni ai Damwon propri, piuttosto che andare a dimostrare il loro gioco con qualcosa più confortevole come magari un Galio, abbiamo visto questo Jarvan, e credo che la vera win in draft dipenderà proprio da quanto il 2v2 mid-jungle in early game possa in realtà impedire ai Suning di fare quel che vogliono intorno a Bin. Sì, diciamo che vedere campioni come Galio e qualcosa di più supportivo in una finale mondiale magari su dei player di questo calibro non è proprio quello che vorresti, quello che ti aspetteresti, aspettiamo sempre un po' di magia e spettacolo, e di magia e spettacolo arriva anche dalla corsa inferiore, dove per l'appunto gli edi carry sono un po' quelli che generalmente ci si aspetta alle giocate più pazzesche, ormai si sta portando avanti questa dinastia del flash avanti per poter essere il più aggressivo possibile, poter rincorrere la kill, gli edi carry in mezzo ai team fight, che lanciano addirittura la pistola pur di fare quanto più danno possibile oltre a tutto il resto dell'equip. La cosa molto anche un po' divertente è che se andiamo a vedere un po' One Fang, sia One Fang che Ghost, prima dell'inizio del mondiale non erano di certi due di carry più ai patti di tutti, anzi venivano visti come Ghost la parte debole della mappa per quanto riguarda Damwon, e One Fang come un giovane con tanto talento ma ancora tanto da dimostrare. E se andiamo a vedere invece le statistiche in game di questi due giocatori, i CS per minutes di One Fang sono incredibili, riuscire a mantenere un CS per minute così alto in delle serie come quelle giocate dei Sunning, ricordiamo che non sono serie a ritmo lento dove ti hai il tempo di farmare, di farti alto lane molto tranquillo, sono serie veloci, sono partite veloci in cui tu devi essere pronto a far giocate proattive sulla mappa in ogni parte e mantenere un CS per minute così alto è veramente incredibile, in generale entrambi molto bassi di morti e per quanto riguarda il key di A entrambi comunque fanno vedere di essere molto molto proficienti di morire poco e morire bene tranne qualche hint da parte di One Fang. Se pensiamo a quanto isolato possa essere questo matchup in quanto entrambi i support vengono comunque avvantaggiati anche dal meta stesso che li rende liberi di muoversi con questo carry jungler mentre offrono il loro cc con una leona o con un qualsiasi cc support, la di carry quanto importante può essere restare poi in questo 1v1 senza comunque andare così indietro ma comunque offrendo quell'altro CS per minute che tra l'altro One Fang è stato storicamente criticato in passato per quanto non fosse in grado di farmare comunque era un po' più incentrato sullo stile del win lane che magari andava più nel suo Draven, nella sua calista ma quanto è stato bravo comunque ad adattarsi in questo meta e a venire comunque a superare quella che è stato un po' il suo mental block di Jekilov e oggi se invece Ghost non può sembrare appunto il carry più dominante della corsia la vera task di One Fang è quella di fare il gioco di Ghost migliore di lui in quanto Ghost è il miglior weak side AD carry che si sia mai visto probabilmente e il suo ruolo nei Damwon è quello di essere stabile e comunque arrivare in quelle power spike nei momenti cruciali e abbiamo visto quanto sia in grado di dominare in termini di KDA perché comunque nel momento in cui lasci questo carry isolato se sai se puoi fidarti e sai sei sicuro di non vederlo magari perdere un flash in 1v1 o magari dover lasciare due wave o addirittura morire allora sai bene che averlo su questo Jin o averlo su una Ashe può renderti il gioco molto più facile affinché tu possa giocare intorno agli altri carry della tua composizione questo è effettivamente vero e infatti un argomento molto interessante poi che andremo a sviluppare meglio sarà anche il ruolo dei support ma voglio prima chiedervi sempre sul match up tra i due di carry effettivamente chi secondo voi tra questi due player One Fang e Ghost può essere considerato attualmente alla fine di questo mondiale il miglior AD carry di questo mondiale è vero le statistiche ovviamente non daranno continuamente il loro contributo però vorrei un po' sapere anche il vostro take alla fine di questo mondiale allora io credo che One Fang sia sicuramente quello che si è fatto più notare e in questo meta purtroppo è anche con il pick di Jin quello che vedo più a suo agio è sicuramente Ghost mentre dalla parte di One Fang vediamo questa voglia di fare queste flashy play di cui parlavi anche tu ma credo che in questa squadra l'AD carry che andrà a sopravvalere sull'altro è quello che poi sa in realtà stare al suo posto e non diventa in realtà il punto di attacco della squadra avversaria però una cosa molto interessante partendo da questo Gine anche volendo allargarsi su altri campioni secondo me questo è un pick condiviso durante il mondiale ma sarà un pick poco condiviso forse durante questa serie perché io penso che visto anche quali stati sviluppi della settimana scorsa in cui abbiamo visto Ezreal riuscire a tenere molto bene Gine in tutte le partite mi aspetto anche potenzialmente visto che Ghost non ce l'ha ancora mostrato su Ezreal di lasciare un Gine alto per i Damwon per rispondere subito con Ezreal e vedere quindi sì Ghost è solido con questo Gine ma riuscirà a reggere l'Ezreal di One Fang che nei fasi più avanti della partita ha sempre fatto la differenza sì ce l'ha dimostrato penso che comunque giocare questo Gine into Ezreal possa un po' dare modo a Bin anche di trascinare più membri nella sua parte di mappa tuttavia draftare Ezreal per i Suning significa praticamente lasciare tutta quella priobot che può essere il primo punto di controllo da parte di Canyon stesso e quindi muovere, far vedere comunque quanto Nuguri si sia saputo adattare nella weak side stessa e magari avere questi Otten o questi Cannon che si incentrano più sul teamfight puro per poi avere la possibilità di magari approcciarsi a questa bot side staccare questi Drake, diveare questa bot lane magari fare questi four man dive che i Damwon ci hanno fatto vedere più e più volte infatti, mentre parlavamo di weak side, di come alcuni di questi campioni potessero essere tranquillamente più supportivi nel ruolo della D-Carry si va quindi poi a scattare nella zona support dove effettivamente avere magari un Ezreal o un campione un pochino più supportivo può effettivamente mettere poi nelle mani del supporto qualcuno di un pochino più aggressivo, operativo anche in termini di roaming esattamente, infatti i due support che sono arrivati in finale paradossalmente sono quelli che più si comportano al secondo jungler in questo torneo girano tanto per la mappa e questa cosa viene evidenziata da una delle statistiche più importanti seppur sottovalutate che sono l'XP Difference at 15 entrambi hanno un'XP Difference at 15 negativa perché? Perché lasciano veramente tanto da soli i propri AD-Carry prendono tanto spazio sulla mappa e cercano di portare questa loro presenza non solo sulla corsa inferiore ma anche sulla corsa centrale potenzialmente anche sulla corsa superiore se non sui neutrali quindi questa è una chiavedertura molto importante ed è anche molto importante vedere come entrambi comunque abbiano una media di assist molto molto alta seppur la kill participation di Beryl possa sembrare subottimale e voglio anche far notare come Beryl è sempre e da sempre stato rinomato per questo suo playstyle più Rome-centric lui è stato uno dei primi pionieri di questo Pantheon support e tra l'altro il meta non solo aiuta questi campioni come Leona appunto o come Pantheon a brillare in early game ma oggi il suo matchup lo vede contro uno dei migliori roaming support da sempre Sword Art giocatore da ormai dalla season 2 credo che si è fatto valere per l'impatto che il support con solo 500 gold poteva avere sin per tutta la partita immagino che la differenza dei jungler o almeno quale dei due jungler sia poi in vantaggio sull'altro abiliterà il support proprio poi a fare il suo gioco in quanto questa combinazione di jungle support sarà poi quella più importante in termini di controllo e credo che entrambi i support saranno disposti ad andare indietro magari di un paio di livelli a fare il loro gioco più per enablare il jungler stesso e sarà bello vedere anche in termini di draft quanto saranno disposti poi a blind pickare il proprio campione o magari avere il counter pick per una laning phase migliore Sì che tra l'altro poi quando si parla sempre di roaming, di efficienza sul gold, di elitimizzazione si pensa magari sempre a un Rakan, a qualcuno che possa girare ma in realtà il pick condiviso è una Leona uno dei pick più aggressivi attualmente nella corsia inferiore dove ti permette anche, l'ho visto molte volte se c'è la moto del flash in per gli ad carry c'è la moto del stai ingaggiando una Leona, ti reingaggio a sua volta quindi Leona è sicuramente un pick molto importante per questi due player Voglio anche mettere enfasi sulla Leona in quanto non solo ti garantisce un roaming e comunque un 2v2 con un carry jungler abbastanza solido ma quanto in corsia costringe non solo il carry magari la maggior parte delle volte avere un cleanse come summoner spell e quindi avere questo svantaggio già nel 2v2 in termini di combat summoner ma soprattutto quanto sia importante per questa Leona poi avere il carry superiore in modo che poi possa avere priorità in corsia e si possa muovere nel fiume per minacciare anche solo il mid laner con la presenza di questa ultimate con così tanto range e sono anche curioso di vedere quanta correlazione ci sia tra Beryl che perde esperienza con Canyon che invece è così avanti di esperienza appunto come diceva Cristo una di quelle cause per cui magari Canyon è effettivamente così efficiente nel andare avanti in giungla è perché ha un supporto che gli permette di farlo che gli fornisce appunto supporto ogni volta che lui si va che va a invadere la giungla avversaria che va a rubare quel campo e nel caso di quello che succede anche oggi vista anche la natura di Sword Art sono curioso di vedere come andrà a bilanciarsi questo matchup se sarà Sword Art ad averla meglio su Beryl o se Beryl effettivamente riuscirà ad avere questo roaming invasivo e portare a mettere in difficoltà anche un support molto esperto come Sword Art che da anni gioca e se posso credo anche che Leona sarà blind piccata eventualmente da entrambi i team ma mi aspetto che Beryl faccia ritornare quel che era il suo Alistar che è una delle risposte più classiche a Leona mentre Sword Art potrebbe un po' abbracciare questa cultura del weak side in cui loro probabilmente dovranno andarsi a scontrare per aiutare Bean con il Tam Kench credo che siano queste le due risposte che potremo vedere super veloce anche Bard potrebbe starci potrebbe sicuramente per Sword Art vedremo detto questo però prima di continuare ancora nell'analisi nel proseguimento di questo pre-show andiamo un attimino in pausa e torneremo qui su PG Sports tra poco tutti grazie a tutti Now you coming at the king, so you better not miss And we only get stronger With everything I carry up on my back You should paint it up with a target Why would you dare me to do it again? Come get your spoiler, but We're taking over We're taking over Look at your love and our name You ought to know by now We're taking over We're taking over Maybe you wonder what your future's gonna be But I got it all out Go Take a lap now Don't be mad now Run it back, run it back I got bodies lining up Think you're dreaming of greatness Send you back home Let you wake up Wake up Why would you dare me to do it again? Come and get your spoiler out of my head We're taking over We're taking over Hey Look at your love and our name You ought to know by now We're taking over We're taking over Hey Maybe you wonder what your future's gonna be But I got it all out Uh 再以后 除了说傻子还要吃他吗 我左右 肩膀疲怕在时间抵达着 还不够 你的固执让我来少后 哪怕太迟也不想以后 就在这时放肆掉打斗 I got the height of a lion, I know the hotter you climb, the hotter you fall I'm at the top of the mountain, too many bodies to count, I've been through it all I had to weather the storm to get to the level I'm on, that's how the election was born All of my enemies already dead, I'm bored, I'm ready for war, they know I'm ready for war, I told them We're taking over, we're taking over, yeah Look at you come in my name, you wanna know by now We're taking over, we're taking over, yeah Hey, maybe you wonder what your future's gonna be, but I got it all locked up Go Wow, wow, eccoci qua finalmente ben ritrovati, qui sono i di PG Sports all Analyst Desk, il più bello d'Italia Siamo tornati ovviamente di Noize, Noodles, Coach Cristo Wow, questo è un viale verso l'hype della finale, non sto più nella pelle ma ho una confessione a fare Vi ho mentito, ho mentito a tutti quanti, l'analisi non era la parte più succulente, non era la parte che tutti aspettavate Questa è la parte che tutti aspettavate, la parte in cui abbiamo imposto, soggiogato e forzato la mano ai nostri analyst Per creare secondo loro il predict massimo delle skin di chi vincerà questa finale Allora, da LCK Enthusiast prevedo i Damwon vittoriosi Ok E come non aspettarsi appunto un Damwon Kennen Credo che Nuguri ci mostrerà questa sua scelta di Kennen Voglio comunque mettere questa enfasi su quanto Kennen stia indossando una maschera Mentre questo è Damwon Pantheon Wow, wow Tra l'altro, per chi non lo sapesse, i Damwon sono appunto sponsorizzati da dei monitor Damwon Quindi quello non è nient'altro che un monitor A maggior ragione E penso che Pantheon, essendo Barry l'appunto, diciamo così, famoso per aver creato Pantheon Quale chance per... Maestro, maestro, mi illumini, maestro, mi illumini perché Ma il dentino molto anime style è una chicca di una certa elevatura Sì, 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 è stato più una scelta artistica Ma Van Gogh, cioè chi è che è? L'ispirazione da dove è arrivata? Anime a cazzo Tardo anime realismo Sì Interessante, mentre invece la parte del monitor, devo essere sincero Era stato qualcosa di... E la tastiera nell'altra mano La tastiera nell'altra mano Però ci sono dei riferimenti culturali anche alla Scozia Ho visto un kilt più o meno per Pantheon Non solo il kilt, ma anche i famosi piedi di Pantheon release Che appunto erano... Pantheon release erano proprio tondi Tra l'altro fatto è uno dei miei primi main al fianco di Renekton Quindi ho apprezzato Ho apprezzato i piedi giganti in texture Passiamo invece ai tuoi Perché lui che sorride, però in realtà vuoi vedere lui cosa ha portato Allora, io essendo... Allora, volendo che i Suning vendichino un po' quella che è stata la nostra sconfitta Io ho fatto le skin per i Suning E ho iniziato con un Galio Che però è più un Leonli, ho visto il tema Essendo i Suning dei Leoni E qualcuno potrebbe chiedermi Ma perché Noodles l'hai messo così laterale? Perché sta per ultare Quindi puoi fare l'entrata dell'eroe E questo invece è il mio Rafiki Wukong Su cui io mi sono impiato tantissimo, devo dire Questo è stato perché il Re Leone ha Rafiki come scimmia Wukong è una scimmia, l'hanno giocata la settimana scorsa Leone, Re Leone, Wukong, Rafiki Perché no? È stata questa la domanda Io invece la faccio, non posso continuare Io esco, Maria io esco Ma Rafiki, ma come ti è venuto in mente? Quei collegamenti che fai ai 3 del mattino La faccia di Galio mi ricorda tantissimo Un attore che ha fatto Cattivi Vicini Quello con Zac Efron, l'altro Ha la faccia uguale Ha pure la stessa barba Ma vabbè, tolto quello Rafiki, geniale, sono combattuto Poi vi darò in privato poi il voto Grazie Wow, wow Sto piangendo, sto piangendo Fenomenale Anche questo all'analyze desk In ogni caso Quindi, beh, giustamente Suning per i buon noodles Coach Cristo per i Damwon Io però chiamerei effettivamente Un po' quello che è l'entusiasmo Che sta accompagnando i mondiali Queste skin practice E di fatti Come sempre ringraziamento anche a tutti quelli Che ci stanno seguendo da casa Il vostro entusiasmo, il vostro supporto Nonostante il momento Che tutti quanti stiamo vivendo Con il covid Tutte le difficoltà Riot comunque è riuscito a mettere in piedi Un grandissimo spettacolo Un grandissimo mondiale E soprattutto so che voi Ci date continuamente il vostro contributo Con Stories Insomma, è un cammino Che affrontiamo insieme E che ci gustiamo insieme, tra l'altro Ciao a tutti Ciao a tutti E quindi grazie, grazie come sempre per tutto il vostro contributo, il vostro supporto, l'energia che date a noi e anche a quelli del Casterdesk che a questo punto io invocherei perché è da un po' di troppo tempo che effettivamente non li vediamo. Anche perché adesso è il momento di andare un pochino a eviscerare quelle che sono le prediction di questa serie, di questa incredibile serie, sappiamo già ovviamente, intanto eccoci qua, salve Salvino, eccoci qua, ben arrivati, ben arrivati. Di là, di là, ogni volta, ogni secondo sei, salve. Ero stato giusto per la prima volta, ero partito bene, devi fidarti dei tuoi stessi. Ma, 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 stop, erano fermi. Detto questo, io in privato poi vi andrò a sgamare uno alla volta per sapere voi come avete reagito a queste skin predict dei nostri bellissimi analyst. Capolavori. Capolavori. Ah, un'opera d'arte moderna. Cioè, dai, sapevamo che avevamo degli artisti all'analyze desk, insomma, avevamo dubbi. Detto questo, è il momento di affrontare quelle che sono le prediction, perché sappiamo, Suoning, Dammon, ma adesso scopriamo quella che è l'intero corpo crew. Ah, io vedo un po' di, vedo un po' di, un po' di unanimità verso i leoncini, ma siamo abbastanza equiparati, eh. E di noi, scristo, è Twitter, quindi noi abbiamo l'energia, l'energia che ci porta avanti quella del pubblico. Vediamo se riusciremo a sfaldare. Patetici. Se c'è qualcuno che non ha bisogno di energia, sono i Dammon, secondo me. In effetti, effettivamente. E io devo dire che purtroppo, pur avendo detto che vinceranno i Suoning, sono molto combattuto, perché una parte di me pensa che potrebbe essere un 3-0 Dammon, ma voglio togliere questa eventualità perché non un'altra 3-0 final, per favore, quindi ho tutte le due Suoning. Perché se non vincono 3-0 i Dammon, ora vincono i Suoning. La cosa bella è che Noodles ha assolutamente zero stakes in tutto questo, perché non fa parte della classifica, quindi non è nemmeno in corsa per il tentativo di vittoria. Stai difendendo il suo gallio, per dire. Il suo gallio. Però qui notiamo una cosa importante, perché tutti quelli sopra di me in classifica hanno votato Dammon. Io mi sto giocando tanto sulla vittoria dei Suoning, quindi da parte mia è stata una mossa da power player, ve lo dico, sono andato a fare min maxing. In caso di vittoria dei Suoning mi porto a casa il titolo. Non è la peggiore delle ipotesi, io finisco secondo, quindi sono comunque contento. Vedremo, vedremo caro Karen, vedremo, vedremo perché a me basta che non finisca a 3-0. E già così ci piace a tutti quanti. Però io essendo lo stat boy ho anche delle statistiche sulla classifica in sé, perché adesso ci sono tre persone che possono effettivamente vincere. Se vincono i Suoning vince Roberto, perché scavalca tutti, qualsiasi risultato ci sia. Se vincono i Dammon 3-0 vince Cristo, perché azzecca sia vincitore che il risultato. E una qualsiasi altra vittoria Dammon, quindi 3-1 o 3-2, invece il vincitore andrà ad Eddy. Twitter purtroppo si è fregato, perché è un punto dietro a Eddy e ha mezzo il suo stesso risultato. Non potete superarlo. Ah, non vedo l'ora di poter assaggiare nuovamente, di freggiarmi del titolo di Superior Analyst da lungo tempo ormai perduto con quella finale dello Spring Split predictata di nulla, tra l'altro. Quando vuoi, quando vuoi. Quando Reverse Whip regalato. Reverse Whip regalato. Detto questo, in ogni caso, vedremo chi riuscirà a spuntarla. Abbiamo detto la nostra, quindi noi siamo a posto a livello di coscienza. Ci vediamo dopo la cerimonia. Esatto, esatto. Vi rivedremo dopo la cerimonia. Torniamo all'Isdesk, perché abbiamo parlato del vostro entusiasmo da casa che ci seguite. Abbiamo parlato un po' di tutto quello che ci sta un po' trascinando in hype verso questo finale. Ma per l'occasione i Suning verranno supportati e sono supportati anche da tre calciatori famosi che immagino ben conosciate. Ciao a tutti voi che seguirete la finale della League of Legends World Championship. Ci aspettiamo un grande spettacolo il 31 ottobre e ovviamente qui dell'Italia faremo il tifo per Suning eSport. Insieme come un'unica squadra, lottiamo per la vittoria. Forza Suning. Forza Suning. Forza Suning. Beh, direi che i Suning hanno ben più di una singola regia. Ma signori, il momento è giunto. Manca pochissimo ormai alla cerimonia d'apertura presented by Mastercard. Non vediamo l'ora che inizia e quindi perché non immergerci. Non è vero. C'è ancora tempo per effettivamente parlare un po' di quelle che sono un po' le nostre prediction. Perché sono incuriosito da più che altro non tanto da me e Cristo che ovviamente ce la stiamo giocando lì per lì o dal possibile ups di Karan. Perché la scelta Suning? Solo per mera vendetta nei confronti di D'Ambo? No, perché a livello di simpatia onestamente io spero poco che vincano i Suning. Perché seppur vero che entrambi le squadre hanno delle storyline molto molto interessanti dietro i Suning comunque sono questo team underdog e a me gli underdog piacciono sempre. C'è poco da fare. Quindi questo fascino mi ha fatto votare per loro. Ah, migli esperienze nei G2. Effettivamente, la storia dei Suning è proprio molto molto più pittoresca, però LCK is taking over. E io purtroppo sul livello ho paura che possa avere ragione Cristo, ma la speranza rimane. Anche perché adesso, avendo ancora un pochino più di tempo, voglio proprio volare con la mente. Se dovesse vincere la Cina è innegabile che ormai sta creando una legacy. Una legacy pericolosa anche perché siamo arrivati già a un terzo nuovo campione sempre dalla Cina. E poi l'anno prossimo avremo ancora i mondiali in Cina. Ma signori, detto questo, cerimonia d'apertura. E poi l'anno prossimo avremo ancora i mondiali in Cina.